Ciao, sono Antonio Milesi e da dieci anni mi occupo di fotografia di ritratto, fotografia editoriale e fotografia di catalogo. Per anni ho gestito la mia attività cercando di fare tutti i lavori possibili, di prendere tutto quello che potevo prendere per crescere e per avere visibilità. Mi rendevo conto che stavo lavorando davvero tanto, ma questo lavoro non portava niente, né come crescita del business, né come risultati economici. Di corsi, ne ho seguiti diversi, ho cercato di fare corsi online, di partecipare a vari corsi, a vari incontri, ma alla fine si sono rivelati tutti dei contenitori vuoti, tante promesse, grandi aspettative, ma alla fine mi trovavo sapendo già quello che sapevo. E a un certo punto è arrivato il Photo Elite Lab. Io ormai ero abbastanza scoraggiato, ma ci ho provato perché la figura di Luca mi ha ispirato fiducia e sin da subito mi sono accorto che fortunatamente non era come i corsi che c'erano sul mercato. E definirlo un corso è niente, in realtà è un vero e proprio master. È un master che ti guida passo per passo su tutto quello che devi fare per entrare con successo nel mondo della fotografia. Così, seguendo lezione per lezione settimana per settimana, ho costruito il mio brand, ho individuato con precisione la mia nicchia di mercato, ho costruito il mio sito internet e mi sono finalmente approcciato in maniera veramente professionale al raggiungimento dei miei obiettivi. Se oggi devo fare un bilancio e pormi la domanda cosa hai portato a casa con il Photo Elite Lab, sicuramente una migliore qualità dei clienti, una continuità dei lavori e un aumento deciso e costante dei guadagni. E non mi sembra per niente poco. Alla domanda consiglieresti il Photo Elite Lab? Rispondo con un deciso sì, per molti motivi, ma aggiungo anche altro. Secondo me il Photo Elite Lab dovrebbe essere un prerequisito per tutti quelli che vogliono entrare con successo nel mondo della fotografia professionale. È uno strumento che ti prende per mano, ti accompagna e ti aiuta a costruire il tuo business con successo. Ti insegna dove rivolgerti, come rivolgerti. E quindi per concludere mi sento di dire solo una cosa. Grazie Luca!